Mi accompagni tu? Buonasera Vi volevo soltanto augurare buonanotte Sono stanchissima tipo Devo ancora farmi la doccia Devo mettermi il pigiama Devo fare tutto quanto proprio Ciao a tutti Che fate di bello? Oddio ragazzi mi sono bloccati i commenti Non vedo più nulla Ok adesso lo vedo Ciao 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 Come state? Tutto bene? Sono stanca tipo Salutate tutti Salutate tutti all together Oh ciao scusate Ciao 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 Marta Io? Sì Insomma Diciamo bene abbastanza Mi sto addormentando seduta Domani L'avevo annunciato anche ieri Che avremo uno shooting all together Non possiamo dire ancora cosa Però saremo Non si può dire che riguarda Niente Non si può dire niente Che cosa voglio dire? Riguarda? No Riguarda un rapporto intimo Forte Non è proprio un rapporto intimo Vabbè quasi come dire Beh peloso è peloso Poi capirete Ecco lo stavo per dire io Poi capirete Sei bellissimo dicono Non ci vedete molto bene Tipo la qualità è un po' scarsa Vedi? Ma guarda In realtà a me devono aggiungere gli effetti Per imbruttirmi Anziché il contrario Ci sono delle app che mi aggiungono Gli effetti Forti Sì Bello Quei cazzo si fa? No perché li blocchi? Ma questi sono i migliori No no che sono Alice sei crudele Ma con questo Ma che crudele Allora volevo anche Ne approfitto per dire una cosa Se mi vedete nelle vostre live Quello che dice sempre tipo Escile Sono sempre Cioè sono io Quindi Non preoccupatevi tutto Su questo controllo Vergogna ti ha Vado di notte Nelle live su Periscope degli altri A vedere cosa fanno Basta È una malattia No adesso Accediamo che sennò poi Yes Ciao Serena Dimmi Che devo fare Scusatemi Alli mi aiuti Di che devo fare Dimmela Tra parentesi grazie Tutte le ragazzine che Voi Voi che mi state mandando I cuori verdi e i cuori lilla Sono tantissimi Grazie Vive i cuori lilla Dove siete? Siamo nella casa Che abbiamo momentaneamente A Milano E Tutto bene Insomma siamo nella casa Che abbiamo momentaneamente Grazie tesoro Grazie Oh ciao peniamino Ciao No non sono di Milano Però mi sto trasferendo Quindi Ho quasi forse trovato casa E presto mi trasferisco a Milano E E basta Allora se non avete domande Il set è il mio compleanno Sego Michele da due anni Ma non legge i tweet Allora Non posso dirgli niente Perché in più Io non lo vedrò Per un sacco di giorni Perché ha tutte le date Degli in store Quindi non posso Poi me lo chiedete in tantissime Lo so Non odiatemi però Siamo un gruppo Yeah Nel senso casa momentanea Perché è solo per questi giorni Poi perché c'era La festa di Michele Avevamo diverse cose da fare Quindi è solo Momentanea Proprio di tre o quattro giorni Ma nemmeno Cioè domani È l'ultima notte Sta avendo una sessione per te Grazie Mary Grazie Che cosa stavi dicendo Riguardo alle domande? No niente Collaborazione con gli HMET No Perché sti stronzi Non mi hanno aspettato Per girare il video Quindi non ci sarò Nel loro video Però loro saranno nel mio Quindi diciamo di sì Ali ho appena finito Di lavare i pennelli Mi dici dove posso comprare l'Avio Tutti i suoi mercati Ragazzi Reparto tipo smacchiatori Queste cose qui Avvio Mi sa che sta diventando una droga Grazie tesori Oh Oggi che giorno è? Domenica Tra due giorni Esce il nuovo video Tipo tragicomico eh Le figure di merda Che si fanno di soli Oddio ho appena capito Che i cuori sono del colore della foto Esatto Franci Quindi questi metti i cuoricini Diventano rossi Ragazzi fate la ship Com'era la ship nostra? La nostra Andre Andra Andrice 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 ragazzi Andrice Mi raccomando Andrice 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 Internazionale Va bene Allora la ship tra me e Andrea Sarà Andrice Guarda 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 Già lo scrivono Andrice Andrice Hashtag Andrice ovunque Su ogni social Ma certo Certo che ti faccio gli auguri Il 7 Però ricordamelo Perché non me lo ricorderò mai Twittami Così ti faccio gli auguri Basta E mi si sono ribloccati Andrice Guarda che carini Bene Ragazzi Vado a letto Tipo Deve andare in tendenza No non lo fado andare in tendenza Va bene Va bene Il La prova Cioè già il fatto che lo fate Va gesta bene Non gli importa che è in tendenza Ragazzi Buonanotte a tutti Ciao Grazie tesoro Sì anche secondo me Però in realtà lui mi odia Quindi non vale Come cosa Purtroppo Andiamo tutti a letto Tipo vi faccio salutare da tutti Ciao Antti Saluta Buonanotte Sono di Doro Io Noi chissà che Quando è che ci addormenteremo Beh adesso perché non arrivano più Cori Lilla I tecci capelli Lilla Appunto Cioè Lilla Adesso I capelli Lilla Oh Eccola Eeeh Tanti capelli Lilla Guarda vado vado Anche rossi Giallo Ciao Nicola Ciao Antti Matt saluta Buonanotte La gioia del mio fratellone Mamma mia Anche io ti amo Matt sei sexy Oh ecco anche Luca Sì abbiamo l'after sex Sì infatti Youtuber improbabili assieme Sì hai ragione Hai proprio ragione Ciao Baglio Siamo distrutti ragazzi Siamo distrutti Ciao Nico Ciao Yuma Safari Ciao Ciao Amici Buonanotte a tutti Ehm Ci vediamo poi domani Biagio Bonazzo Biagio Chi è? Claudio Claudio Sviaggio è arrivato qui Aleggiando Fate la ship A me A Claudio Claudio di Baglio Claudio di Baglio Claudio di Sbaglio Va bene Basta ragazzi Vi amiamo tantissimo E ci vediamo domani Faremo qualche altra live Ashton Claudio di Baglio Grandissimo Basta Buonanotte Un bacione Dormite